Allora, Joe vivrà in un mondo tutto suo, e è probabile che resterà piccolo per molto più tempo. Esatto. Bambino per molto più tempo. Forse come Peter Pan. Ma non ci sono problemi, vuoi dare delle soddisfazioni. A wrestling stendiamo tutti. A basket mi fai fare 300 punti a partita, e sulla porta del nostro covo farai una scritta di fuoco. Vietato l'ingresso alle sorelle. Tuo fratello è un caso eccezionale. Non ho mai visto un bambino così forte. È così forte? È un super down. Mi prometti di prenderti cura di lui? Mio fratello era più che speciale. Era un supereroe.